vedete c'è la menna, la menna in su e in giù, questo è perché lui è abituato a suonare un tempo shuffle, cioè questo, mentre Hendrix non suona mai così, Hendrix suona tutta la sopra, come rock, cioè non c'è in Hendrix il tempo shuffle, anche perché pennava tutte le, su e con le shuffle si pennano diciamo abbastanza, 3-4 corde, invece lui faceva... no, ma c'è il piano che viene dal rock, lui c'ha questo, tutto da sopra, anche quando, voi pensate a un pezzo come, come Stonfrey, no? Stonfrey è fatto così, tutto da sopra, e pensate se ho suonato una stiple qua, magari così, cioè tutto, cioè, perché c'ha questa cosa di suonare tipo Chuck Berry? i vecchi rock, i rock rock rock, anche quando fa... Allora, facciamo i baby? Allora, facciamo i baby, con il vibrato. Non so se è minore o maggiore, eppure lui quando suona non prende mai la pentatonica maggiore, questa qua, che è tipica di baby king, no? Lui invece tende a prendere sempre il minore. Non prende la sesta. Non so se è minore o maggiore, eppure lui quando suona non prende mai la pentatonica maggiore, eppure lui quando suona non prende mai la pentatonica maggiore. Eppure lui quando suonava negli spettacoli gli si scordava sempre la pentatonica e lui diceva, ecco questa è una cosa che tutti gli italiani si sa, non si fa mai questo, non si fa sempre così. che soltanto i caudoi hanno la chitarra sempre accontata, cioè il genere western, il canto questo. Era una battuta, però la gente li diceva. è una battuta, è una battuta, è una battuta, è una battuta. non mi ha fatto Vedete come lui l'accordo lo scritta, prende il basso, è proprio una maniera di comporre, lui sempre prende... Normalmente lo prende col pollice, perché avendo delle mani enormi, questa è una tecnica che in genere si vede, anche se Django a volte usava il pollice, però in genere chi ha delle mani molto, molto grandi, io sono riuscito perché... Io sento arrivato sull'attività, spia anche con la città nazionale? Sì sì, anche così, sì sì, no, ma in forma città è vero, io l'ho girata anche in senso, trucco, però ecco, io sono riuscito ad abituarmi a un'idea di usare il pollice, anche se di Brevoca del resto usava questa... Poi, sarebbe anche da dire che, cioè, probabilmente è vero che la Stratocaster è stata scelta per i suoni brillanti e con parecchi bassi, quella cosa però che diceva Maurizio, appunto, che arrivava anche fino in fondo alla tastiera, no, per le mani lunghe, gli permetteva... Comunque c'era lo scavo, diciamo, la spustatura sulla Stratocaster era un po' più alta, però comunque c'era... Eh, ci sono delle foto di Hendrix che suonano, ad esempio la Lisboa, rovesciata, e chiaramente era una chitarra che lui si trovava male a utilizzare, proprio perché non c'aveva la spalla mancante... E le Gibson che piacciono a Hendrix sono, ad esempio, le SG che hanno i due cornetti, quindi, cioè, gli permettono, ad esempio, anche la Fly in V, che addirittura non c'ha neanche la... E la Gibson la usava solo, quasi esclusivamente, se io uso il blues, ma c'era il blues con la Gibson e gli altri pezzi che ho fatto. Io non lo so, perché non gli ho mai chiesto, non fa il mezzo... Ah! Io non ho mai chiesto, perché non ho mai chiesto... Grazie a tutti.